Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Non era programmato questa volta, però stavo facendo una cosa, cioè ogni mattina ascolto dei video. Come vi ho detto, ogni mattina scrivo, ogni mattina cerco di iniziare al meglio la mia giornata. Ho anche dei capelli, vabbè, ok, lasciamo perdere. Però questa mattina, mentre ascoltavo questo video, mi è venuta in mente una cosa che spesso le persone fanno e che ho fatto anche io fino a poco tempo fa, fino a circa due mesi fa. Dire, io non sono felice, io ho bisogno di questo, mi serve questo, mi serve questo, mi serve questo. E tutto quello che fanno è solamente lamentarsi, ma lo facevo anche io. E allora vorrei dire una cosa, smettetela di aspettare che succeda qualcosa di bello nella vostra vita per essere felici. Perché la felicità è una scelta. Non aspettate che arrivi qualcuno di bello, simpatico, che vi dica quanto siete bravi, quanto siete belli, per essere finalmente felici. Perché finché la vostra felicità dipenderà da qualcun altro, da qualcos'altro, non sarete mai completamente felici. Perché quando quella persona se ne andrà, o quando quella cosa sarà passata, tornerete di nuovo ad essere nel vostro... di prima. Alzatevi, alzatevi da quel divano, alzatevi da quel letto, fate ciò che dovete fare e fate ciò che volete fare. Se avete un sogno, io parlo di qualsiasi cosa. Ad esempio, il mio sogno era questo, io volevo fare YouTube. Non vedevo l'ora, cioè era proprio una cosa che ho sempre voluto fare. Ho sempre fatto video, oppure parlavo da sola davanti allo specchio. Proprio da sempre, da quando ero molto molto piccola. Ma ero fermata, ero frenata da qualcosa. Pensavo di non essere in grado, pensavo di non essere abbastanza capace. Pensavo di non avere gli strumenti adatti. Trovavo tante giustificazioni, perché fondamentalmente avevo paura. Avevo paura di quello che dicessero gli altri. Avevo paura, sì, soprattutto di questo. Avevo paura di non arrivare all'obiettivo che mi ero prestabilita. Avevo paura di tante cose. Poi un giorno mi sono detta, ma... Ma cosa aspetti? Cioè, se ti piace, perché aspetti prima di farlo? Cosa stai aspettando che arrivi qualcuno dal cielo, che ti apre il canale, che fa tutto da solo? No! Rimoccati le maniche, mettiti su, fai questa cosa che ami fare. E fregatene, fregatene di tutti gli iscritti, fregatene di tutto. Fregatene di quello che dicono le persone, fregatene solamente di quello che pensi tu. E infatti, quando ho iniziato a mettere il primo video, che ho visto che ho fatto così tante visualizzazioni, cioè, in neanche un mese, per me è un traguardo incredibile. Per me sono tutte cose grandissime che ogni iscritto, ogni cosa in più, mi fa sentire bene. Ma ero già felice, ero già felice quando ho messo il primo video, perché finalmente ho fatto ciò che ho sempre voluto fare. E quindi quello che vi voglio dire è, non aspettate, non pensate a quello che possono dire gli altri, non pensate che potreste non arrivare al vostro obiettivo. Fregatevene! Anche perché, secondo me, non potrete mai arrivare al vostro obiettivo finale finché non ci credete. Cioè, il vostro sogno è realizzabile solamente se ci credete voi, cioè, non puoi nemmeno partire per un viaggio se tu non ci credi. Alzati, agisci, fai, fai tutto quello che hai sempre voluto fare. Sei sempre voluto fare il ballerino. Adesso vi parlo di questo perché è bene o male il mio campo. Sei sempre voluto fare il ballerino, ma ti hanno detto che non hai il collo del piede, che non hai delle buone aperture, che non hai le gambe abbastanza a sciabola. Fregatevene, andate avanti. Se voi avete l'obiettivo di arrivare dove volete arrivare, se volete entrare in quell'accademia, se volete diventare famosi e andare a ballare in tutto il mondo, iniziate, rimboccatevi le maniche, lavorate e fate tutto quello che voi amate fare. Se voi lo volete, potete arrivarci, ma dovete crederci e voi potete arrivare dove volete, se ci mettete costanza, impegno e se ci credete, ma non dovete permettere a nessuno di mettervi nei dubbi, soprattutto a voi stessi e non ascoltate nessuno, neanche il vostro insegnante che vi dice che non siete abbastanza portati, nessuno, nessuno. Voi avete quell'obiettivo e ci potete arrivare perché voi ci credete. Grazie per aver guardato questo video, ciao, alla prossima!